Sono giornate in cui la protezione civile scende in campo insieme a tanti ragazzi e alla città fa vedere come opera nel territorio. Tema quanto mai attuale, come dimostrano purtroppo i tragici fatti della Sardegna e i nostri volontari si fanno trovare pronti. Sul volontariato della protezione civile si poggia il 90% dell'attività della protezione civile in Italia. Il Comune di Vittoria si è dotato dei piani di protezione civile, nei giorni scorsi ha stretto un ulteriore protocollo d'intesa con la protezione civile provinciale e regionale. Cerca di sostenere come puoi l'attività di volontariato che è pregevole ed ottima a Vittoria. C'è sia il volontariato di protezione civile comunale, il gruppo comunale, sia il gruppo caruano che alla stessa stregua lavorano in maniera eccezionale. E poi c'è invece un livello nazionale e regionale che secondo me deve ancora crescere, che non è preparato a sostenere in realtà sul territorio gli enti locali e le situazioni di emergenza e che deve fare un salto di qualità e dobbiamo avere un confronto serio e netto una volta per tutte con la protezione civile nazionale e regionale.